Eccomi con l'anteprima di campagna 17 di Avon Vediamo invece le novità Il catalogo in anteprima non mi è ancora arrivato perché Avon me lo rispedirà prossimamente Forse è esaurito, non è ancora stato stampato, non lo so Comunque, nuovo profumo, uscirà il Faraway Gold Inabbinato al bracciale, soltanto 18,90 euro entrambi Armonia, ovviamente, floreale Che festeggia 20 anni, appunto, questa versione nuova Poi per lui uscirà il TT a Tomorrow Che è un'intensa sensualità che si rivela attraverso seducenti note di foglia di liquirizia Frizzante lime, unito ad accenti di anice, stellato e cacao Un equilibrio perfetto con accordi legnosi e calde sfumature di paccioli Non so cosa sia paccioli, comunque E lo potete avere inabbinato col portafoglio soltanto 19,90 Qua si dice il prezzo, appunto, del... Insieme, non mi dice singolarmente Quindi non so se si potrà acquistare soltanto il profumo oppure questo in più o meno Non c'è scritto Comunque, vedremo quando mi arriverà il catalogo Linea Irresistible Sexy Riuscirà questa mascara black Allungante, sollevante... No, sollevante e volumizzante E questo invece che è un... Colore cremoso per le labbra In questi quattro colori Molto carino anche il packaging, devo dire Allora, i prezzi Allora, 6,95 per il mascara E 7,95 per la matita labbra Poi, qui c'è un mascara Feel the love, color trend In questo packaging di San Valentino Ovviamente nero E l'ho trovata in offerta lancio a 3,95 Rossetto, nuovo packaging Per sempre San Valentino Offerta 3,95 Bel colori Matite A offerta lancio 2,99 In questi colori qui Molto belli Poi usciranno questi fantastici cuoricini Da applicare sulle unghie A 2,95 Bellissimi Poi Della Von Kier Questo Moisture Body Lotion A 5,95 Con questa confezione bella Molto, molto carina Uno specchietto a farfalla 2,65 euro E... Ah, ne ha uno che è ingrandente Molto interessante Lo prenderò forse Qui ci sono della linea Naturals Hanno fatto una fragranza Alla rosa e cioccolato Che c'è La fragranza spray per il corpo Che costa 2,99 euro E la lozione Mani e corpo Ha sempre 2,99 euro Poi qui Sempre della Naturals L'esfoliante per il corpo E idratante al cioccolato A 2,99 euro Poi qui sotto abbiamo Un balsamo Alla rosa Per sì, sempre Ah, è da 15 ml A 3,99 euro Poi Maxi Packaging Maxi Formato Per il Shampoo Advanced Technique È da 700 Quindi durano una vita eterna E sono Quello All'Argan Ha 5,95 euro Quello 2 in 1 Per tutti i tipi di capelli Daily Shine Sempre 5,95 euro Poi Le tinte nuove In due colorazioni Dell'Advance 6,25 euro Poi abbiamo Dei gel doccia nuovi Della Senses pH Neutro My Moment 3,99 euro E quest'altro Idratante al bergamotto E cardamomo 3,99 euro Per lui Da 500 Poi qui Il nuovo bubble bath La rosa E 4,99 euro Da 1000 Quindi è un litro Costa veramente poco Un'offerta lancio Poi qui abbiamo Dei bijou Anello Petty Swift 5,90 euro E set Quindi sarà collano e orecchini Credo 9,90 euro No Sì Dovrebbe essere insieme Poi abbiamo Set 5 paio di orecchini Eternal Spring Veramente bellissimi 5,95 Qui Sempre 5,95 Sat collana Eternal Spring Con varie ciondolline intercambiabili Qui c'è un Sat collana Eternal Spring No Leggo le stesse cose Mi sto sconfondendo Collana Nea 6,90 E niente Questi video ho già fatti vedere Poi Qui abbiamo Cos'è Set collana orecchini Special Someone 7,90 Bella la confezione Poi abbiamo Set 6 paia di orecchini Scarlett 6,90 Qui Collana A9,90 Sì Orloggio 22,90 Delle tazze a cuore Bellissime Un Sat da 2 Che costano 9,95 Poi Questo massaggiatore per la testa 5,95 Abbiamo Set di 2 Cucchiaini Fatti a cuore 5,95 Simpatici Qui abbiamo Gli elastici per i capelli A 4,95 Questo Che sarebbe Un coltellino multiuso A 7,95 Poi abbiamo Qui Reggiseno Poi c'è Il pigiama Allora Reggiseno Costa 11,90 Molto bello Gli slip 7,90 Il pigiama Costa 19,90 Molto carino Completo letto Così così Romantico Sexy No Così romantico Così sexy Costa 75 euro A prezzo speciale La cliente Anziché 85 Poi qui Abbiamo Body Body Illusion Flutter Me 19,90 Vestito 19,90 Che è questo Qui abbiamo Abbiamo degli slip Che sono 4,90 In due colori Abbiamo Questa cos'è Ah una sciarpa Che si può mettere in vari modi Vabbè E costa 9,90 E poi c'è una borsa Qui Che si chiama Martina E 17,90 Costa Poi qui sotto Questo bellissimo Pongo il fiocco Per il trucco 5,90 E niente Poi qui c'è un set Per me Di profumi Da prendere In sconto Ma Non penso Che vi interessa Anche qui Altri Set per me E niente Questo è tutto Spero che Le anteprime Vi siano piaciute Ci vediamo Al prossimo Paco Avon Ciao